Laboratori cinematografici, 16 cortometraggi, proiezioni, animazioni, premiazioni. Si dovrà attendere ancora pochi giorni per assistere alla proiezione dei 16 cortometraggi realizzati dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Castellabate, sotto la tenta guida del regista Gianni Petrizzo della Film Studio, che ha realizzato l'iniziativa voluta fortemente dall'assessore alla pubblica istruzione del Comune di Castellabate, Elisabetta Martuscelli, soddisfatta della partecipazione il Vice Sindaco, nonché Assessore alla Cultura, Luisa Maiuri. Un'iniziativa importantissima di cui io ringrazio innanzitutto l'assessore Elisabetta Martuscelli che ci ha tenuto moltissimo a portare avanti questa iniziativa, ma anche Cilento Channel che è la vera regia, è il motore di questo Celabate Film Festival. Apprezzeremo la bravura di tantissimi bambini, tantissimi studenti piccoli e più grandi dell'Istituto Comprensivo di Castellabate, quindi vi aspettiamo numerosissimi il 25, sabato 25, in Piazza Lucia, Santa Maria di Castellabate, dalle ore 18.